Il fallimento più grande è vivere per la persona sbagliata. Ciascuno di noi è stato creato nell'amore e per l'amore. Non possiamo vivere senza amare. Per questo il fallimento della nostra vita, la frustrazione che spesso sperimentiamo, avviene proprio qui, nello scegliere la persona e l'oggetto sbagliato del nostro amore. Che per questo da amore diventerà qualcosa di diverso. Diventerà sottomissione, legame tossico, nevrosi, angoscia, paura di perdere la persona amata. Diventerà tutto quello che apparentemente sembra amore ma di fatto non lo è. Anzi è la sua negazione, il suo nemico. In sintesi fallisce chi è adultero. Nel Vangelo di oggi appare un'adultera colta in flagrante, cioè una fallita. In ebraico il termine peccato si riferisce anche al fallimento. Una peccatrice, un peccatore è essenzialmente un fallito. Ecco questa donna colta in flagrante adulterio è stata colta in flagrante fallimento. Ma con Gesù Cristo proprio questo momento diventa il momento fondamentale, topico, in cui la vita può cambiare radicalmente. Tutti noi abbiamo bisogno di essere colti in flagrante peccato, in flagrante fallimento, in flagrante adulterio. Sino a che questo non accade non avremo un reale incontro con Gesù Cristo. Allora coraggio perché se le persone che sono attorno a noi, se la storia, se gli eventi, se i fallimenti, le frustrazioni che stai sperimentando oggi ti rivelano che hai un cuore adultero, cioè consegnato al demonio, alla carne, al mondo, significa che sei stato scoperto in flagrante adulterio. E proprio in questo momento dove il tuo orgoglio è distrutto, dove come questa donna sei prostrato a terra senza alcuna speranza e senza alcuna via di uscita, puoi incontrare lo sguardo pieno di misericordia di nostro Signore Gesù Cristo che dalla croce stende le sue mani per perdonarti, per fare di te una persona nuova che risuscitata, rinata insieme con lui, possa camminare senza peccare più, cioè senza fallire più. Amando chi ti è accanto, chi ama non fallisce mai, non è mai frustrato. Allora basta adulteri, consegniamo la nostra vita alla persona giusta, al nostro Signore Gesù Cristo, offriamo tutto a lui perché lui sulla croce non ha scelto la persona sbagliata, ha scelto te, ha scelto me, la persona giusta alla quale offrire completamente la sua vita, con la quale unirsi per l'eternità. Per questo Gesù Cristo sulla croce è l'uomo realizzato e noi attirati sulla croce con lui possiamo vivere la nostra vita nella vera realizzazione che è amare in lui, con lui e per lui.